Si conclude in semifinale il cammino dell'Italia Under-19 che perde per 1-0 contro in parità della Spagna e quindi finisce appunto in semifinale il cammino dell'Under-19. Una partita che secondo me non è stata bellissima, soprattutto ai tempi regolamentari sia Italia che Spagna non hanno costruito granché. Ovviamente poi comincia la stanchezza, cominciano ad allargarsi le maglie e quindi ci sono state un pochino di azioni da una parte e dall'altra. Un'Italia che secondo me è arrivata anche abbastanza stanca e un segno di questa cosa è stato ad esempio l'adattamento di Mannini come terzino di destra, quando comunque tu hai un Magni che è di ruolo. Ma dopotutto le rose sono di 20 uomini, anche se le partite non sono tanti, onestamente visti i ritmi moderni del calcio, io quantomeno a 22 uomini le rose le porterei. Semplicemente perché magari sono partite ravvicinate, vengono a mancare i cambi, basta un infortunio e i tuoi problemi sia a livello di infortuni che a livello tecnico. Quindi un Magni che entra nell'ultima parte della partita, purtroppo ha sul gruppone il gol, quantomeno ha permesso al terzino sinistro della Spagna di arrivare al cross che ha portato poi al gol di Fortuni. Ma ripeto, una partita che non ha regalato emozioni palpitanti. Certo è che l'Italia si è mangiato un pochino di gol. In primis quello sul finale di partita di Zeroli, che non so perché, cioè la conclusa con il piatto destro ma l'ha mandata fuori, cioè proprio non ha guardato neanche la porta. E soprattutto, se non ricordo male, prima del vantaggio della Spagna, sì perché era proprio all'inizio del primo tempo supplementare, se non erro un tiro di sinistro leggero di Ebone che poteva essere fatto in modo migliore e anche un pallonetto se non ricordo male. Sempre di Ebone a porta sguarnita, palla fuori, ma di base secondo me il problema dei tagli è stato a livello offensivo. Non mi ha convinto particolarmente questa configurazione, quindi con Zeroli dietro e Pafundi e Camarda davanti. A volte addirittura si cambiavano i ruoli, quindi Pafundi veniva dietro e Zeroli andava a fare la punta con Camarda. Un Camarda che aveva segnato doppietta nella seconda partita del girone, ma oggi l'Italia è stata anche abbastanza spuntata, diciamo così. E ripeto, questo schema, questa configurazione con una mezza punta adattata a seconda punta, un po' stile il Papu Gomez che giocava come seconda punta all'Atalanta con Zapata, non mi ha convinto particolarmente. In primis perché a Pafundi manca sempre quel centesimino per fare l'euro. Ragazzi, io non riconosco il talento, ma non vedo tutto questo concetto del può esplodere a breve. E' vero tutto il contro di tutto, ma soprattutto, verso fine di partita con i tagli di svantaggio, aveva chiamato Mané, lui stava, spara la porta, anzi portava la palla a Pafundi, vede Mané sulla sua destra e dice, ehi, spingi, vieni avanti che ti passo il pallone. Mané è andato avanti e ha ricevuto il passaggio da Pafundi. Il problema è che a volte Pafundi aveva Magni che si sovrapponeva e lui si andava a stringere con la giocata nel centro del campo. Per vie centrali, dove la Spagna aveva capito il giochino, aveva fatto delle linee congestionate. Magni in questi frangenti aveva completamente la fascia libera, totalmente. Ma è una volta che abbia detto, gli passo il pallone in profondità e magari faccio andare al cross un terzino che le doti offensive le ha e come. E abbiamo visto anche difensivamente che, secondo me, potenzialmente più forte di Calabria, ma ancora difensivamente di un pochino lavorare. Ma questo è il fatto, gli manca sempre il centesimino per far l'euro. Io non sto dicendo che Pafundi debba essere salvatore della patria. Però, a 18 anni, 19, questa stagione del suo 19esimo anno, non gli vedo ancora quelle palle da prendersi una squadra sul gruppone. Sul gruppone c'è un buon piede, anche l'assist di tacco che fece la prima partita del girone, mi pare per l'1-1 di Romano. Noi stavamo perdendo contro Norvegia, tacco per, non so, di Maggio, che di Maggio poi ha concluso il giro. Sì, perché di Maggio si era accentrato, tacco di Pafundi, di Maggio sul secondo palo, batte il portiere della Norvegia. Però, gli manca sempre quel centesimino, non è mai... Cioè, ti dà sempre da pensare, ok, potrebbe fare qualcosa, potrebbe fare qualcosa, potrebbe fare qualcosa, ma mai fa questa cosa. E secondo me è un errore. È un problema che ha Pafundi. Perché da lui ci si aspetta la giocata importante, eppure, nulla, fa quasi mai. Ripeto, non stiamo parlando di un quindicenne, di un giovanissimo nazionale. Mesino in giocatore, che è vero, ha fatto la prima vera esperienza da titolare, diciamo così, in una squadra professionistica in Svizzera. Però gli manca quel qualcosina. Personalità? Testa? Non si sa, perché comunque la tecnica c'è. E poi appunto, riguardo Camarda, beh, io dico che giocare con Mosconi e Liberali è molto diverso che giocare con Zeroli e con Pafundi. E dico questo, perché io reputo ad esempio Liberali, in prospettiva, se così crescerà, lo reputo più forti di Pafundi. A me Liberali piace molto di più. È più smaliziato. È più fantasia. Quanto meno. È una fantasia più concreta. Tenta la giocata. Si prende la scuola sulle spalle. Quindi onestamente giocare con Mosconi e Liberali è molto diverso che giocare con Zeroli e con Pafundi. Semplicemente. Infatti, sia Liberali che Mosconi hanno enfatizzato le caratteristiche di Camarda. Mentre fondamentalmente molte volte Pafundi e Zeroli si schiacciamo dietro e non davano sviluppo a Camarda. O quando Zeroli si alzava comunque non era funzionale al gioco di Camarda. Ma perché Zeroli non è la punta. Non è abituato a fare quel gioco. Poi all'ultimo, giustamente, Corralia ha messo dentro Anghelé. Però ero ormai troppo tardi. Sentivo nell'aria, o meglio, non sentivo nell'aria, odore di gol. A meno di un errore clamoroso della Spagna. E l'Italia ne aveva approfittato. Ma non ho mai sentito quella sensazione, ora l'Italia può recuperare. Questi giocatori, in merito a possibili impieghi nelle prime squadre, beh, io mi auguro ad esempio che Chiarodia e Manet cominci un attimino a mettere i minuti. Che Bartesaghi, Bartesaghi ha giocato bene. Ma niente, mi toglie dalla testa il fatto che io in lui veda i nuovi Chiellini. Ma non come cattiveria, perché comunque Bartesaghi, secondo me, è anche migliore tecnicamente di Chiellini. Ma vedo in lui fondamentalmente un centrale. Io vedo un centrale moderno, Carafiori Style, Bastoni Style, ProGio Cassa 2. Quindi un centrale che ti avanza, che ti imposta, mi dà questa sensazione. Io in lui vedo il possibile cambiamento che fece Chiellini da Livorno alla Fiorentina e poi Juventus. Quindi il discorso di un terzino dall'ottima velocità che è stato spostato all'interno del campo. Ma ecco, Bartesaghi, Manet, Chiarodia, spero che trovi più spazio anche di Pani. C'ha Malichella anche per lui, però secondo me gli manca anche lui quel centesimino per fare l'Euro. Camar, ovviamente, sicuramente della sua nel Milan. Insomma, le basi ci stanno, ma questi giocatori devono crescere. Assolutamente, se no, si vanno a perdere. Nel dimenticatoio. Ovviamente, se avete visto la partita, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra. Vi mando al bacione e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi!